Vuoi imparare o migliorare le tue conoscenze della lingua italiana? Ami l'Italia e la sua lingua e, beh, vorresti conoscerne ogni singolo particolare? Ti piace imparare in modo efficace ma anche divertente? Allora su All You Can Italy sei arrivato sul canale giusto. Sul nostro canale carichiamo ogni settimana video lezioni e contenuti che riguardano l'Italia e la lingua italiana, lezioni di grammatica, fonetica, modi di dire, pillole culturali ma anche informazioni di viaggio e curiosità e, inoltre, esercizi, quiz e podcast. Forza, iscriviti al canale e vieni a studiare con noi questa meravigliosa lingua! Ciao e non perderci! Grazie! Grazie! Grazie a tutti.